Ecco gli studenti della zona flegrea, gli studenti delle scuole superiori della zona flegrea che questa mattina hanno voluto partecipare a questa manifestazione. Il grido no alla discarica è l'unico grido che questa mattina la popolazione, i cittadini stanno innalzando. Vediamo le autorità, le istituzioni con a capo il sindaco di quarto Massimo Carandente Gianrusso, insieme a lui i consiglieri comunali, i rappresentanti di tutte le istituzioni, la polizia municipale di quarto. La partecipazione delle scuole elementari, dei circoli didattici di quarto. Ed è straordinaria la partecipazione perché tutti insieme veramente vogliamo gridare il nostro no alla discarica. e lo vogliamo far capire con determinazione, lo vogliamo far capire con la nostra fermezza. Perché vogliamo che i nostri figli, vogliamo che i bambini possano regnare in questa città, possano vivere nella zona flegrea, così come Dio vuole che possano vivere. Questo momento non vuole terminare qui al Castagnaro ma vuole continuare giovedì prossimo in piazza del plebiscito a Napoli alle ore 16 dove il prefetto ha convocato i sindaci di tutte le zone flegree, dove il prefetto incontrerà tutte le forze pubbliche, le forze dell'ordine per comunicare quale sarà la presenza massiccia dei militari per aprire questa discarica. E allora vogliamo sostenere il sindaco di quarto che con determinazione dice no a questa discarica. Vogliamo essere noi i protagonisti a dire no alla discarica e ci faremo sentire giovedì alle 16 in piazza del plebiscito a Napoli. Giori politici, giovani in Italia!